Un nuovo progetto per Paolo Bucchi e la Lavor, che dopo lo sbarco nel MotoGP in veste di azienda responsabile delle operazioni di sanificazione, assorge lo stesso ruolo alla Mille Miglia e diventa Passion Sponsor dell'edizione 2020. Paolo, ben trovato qui a Milano do Classica, appuntamento immancabile, la prima manifestazione fioristica dopo questa nostra emergenza sanitaria. La tua visita è molto attesa ma sappiamo che ci sono delle grosse novità per il team Lavor, la Mille Miglia che fra pochi giorni prenderà via l'adresse. Sì, intanto è una bella cosa ritrovarsi qui perché è un altro segnale di una ripartenza che ha già avuto qualche prologo quest'estate, ci siamo visti l'ultima volta su un campo di gara in occasione della Stella Alpina, la visita qui a Milano dove vedo comunque una bella partecipazione di persone, ancora di più ce ne saranno nei prossimi giorni del weekend, buona l'occasione per comunicare che abbiamo trovato un accordo con Mille Miglia SRL per arrivare quindi a formalizzare questo agreement per cui Lavor sarà race passion sponsor di Mille Miglia 2020. Finalmente riusciamo ad abbinare il marchio Lavor a una così importante manifestazione. È stato fatto, credo e ritengo, un buon lavoro sia da parte di Mille Miglia ma anche da parte di Lavor, soprattutto dal direttore commerciale, San Paolo Dall'Aglio che ha concluso un bel accordo, ovviamente aveva tutto il mio appoggio in merito perché sappiamo la passione che mi lega e ci lega a questo punto all'automotive, all'automotive classico direi. Un fattore molto importante sono anche la tipologia di servizi che a questo punto si vedete a Mille Miglia proprio in virtù di questo accordo legati comunque alla sanificazione e all'osservanza delle arme sanitarie in vigore per tutti i concorrenti e partecipanti. Sì, questa è proprio una personalizzazione che facciamo per Mille Miglia perché come sappiamo Lavor è un produttore a livello mondiale, anzi un marchio assolutamente primario nella produzione di macchine per la sanificazione o la igienizzazione. Per l'occasione offriremo non solo le macchine ovviamente ma anche il servizio attraverso i nostri operatori che garantiranno il rispetto dei protocolli e il rispetto delle norme da applicare in questo campo per tutta la Mille Miglia. Offriremo sicuramente anche un servizio in più a chi lo vorrà. Al momento delle verifiche tecniche, all'uscita dei paddock e quindi dell'entefiera ci sarà un nostro impianto dove ai concorrenti che riterranno opportuno potremo sanificare la macchina all'interno dopo che gli addetti, i commissari vari avranno espletato le loro procedure. Quindi prima di risalire in macchina chi vorrà potrà usufruire di questo servizio che Lavor mette a disposizione di tutti i concorrenti.